. Uomini e donne News, una sorpresa per il modello pugliese Francesco Monte-Vin Zuiden. Il cantante napoletano Tony Colombo ha fatto una rivelazione sorprendente nel corso di un'intervista. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato all'attore pugliese Francesco Monte . . Per chi non lo sapesse quest'ultimo è noto al pubblico per aver partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, e soprattutto perché alcuni mesi fa è stato lasciato dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez sotto l'occhio vigile del GF VIP 2. . 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 In questo momento non sappiamo la data e dove si svolgerà questo evento. Sempre nel corso dell'intervista il cantante neomelodico di origini siciliane, ha precisato che Francesco Monte è un suo grande amico, e riguardo al comportamento della modella argentina Cecilia Rodriguez ha detto che l'amore non segue regole. . L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è pronto a partecipare a reality l'isola dei famosi. Se non avete avuto modo di leggere gli articoli precedenti, vi riveliamo che alcuni giorni fa Francesco Monte è tornato a parlare della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, video. In particolare in un'intervista il Tarantino ha rivelato di aver voltato finalmente pagina, perché ha superato il momento difficile dopo essere stato lasciato dalla sorella di Belen. Inoltre al settimanale Diva e Donna l'ex tronista ha detto che spera che il 2018 sarà migliore. Per finire vi riveliamo che Francesco Monte è ufficialmente un concorrente del famoso reality show L'isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi. . Se volete sapere altre curiosità sul gossip, vi consigliamo di non perdere i nuovi aggiornamenti, cliccando sul pulsante Segui, posizionato vicino alla firma dell'autrice di questo articolo. .